Rimpasto in giunta alla Spezia, Giacomelli vice sindaco, Gagliardi resta in attesa del governo a Peracchini, personale e comunicazione. Le Grazie, imbarcazione a fuoco, in corso accertamenti sulle cause del rogo, strigionatosi dalla plancia di comando. Costa Vittoria inaugura la gestione della nuova stagione marittima e nel 2019 approderà Costa Smeralda a gas naturale. Tre nuovi sacerdoti consacrati, festa in diocesi, Alessio, Emilio e Stefano, simboli gioiosi di fede, speranza e carità. Un fondo per sostenere i soggetti a rischio di esclusione sociale, la sperimentazione dell'iniziativa al Via Dabolano. Buonasera telespettatori del TLS Giornale, vi ritrovate all'appuntamento con la nostra informazione. Dunque il sindaco della Spezia ha nominato oggi vice sindaco l'assessore Genziana Giacomelli che subentra così a Manuela Gagliardi eletta alla Camera dei Deputati. Gagliardi resta in giunta con alcune deleghe di cui si è occupata in questi primi mesi di amministrazione in attesa dello sbloccarsi della situazione alla Camera e per il Governo nazionale. Laura Ivani. Mini rimpasto all'interno della giunta di centrodestra della Spezia. La vice sindaco Manuela Gagliardi eletta alla Camera dei Deputati con Forza Italia sarà sostituita nel ruolo dall'assessore Genziana Giacomelli che ha le deleghe a lavoro, sviluppo economico, formazione professionale, politiche comunitarie, università e ricerca. Gagliardi resta comunque in giunta con le deleghe a partecipate, patrimonio, avvocatura civica e affari legali, contratti e appalti. Con l'elezione della Gagliardi il sindaco Pierluigi Peracchini coglie l'occasione per qualche piccolo cambiamento, dice, nella distribuzione delle deleghe funzionale a una migliore organizzazione e una maggiore efficacia di azione complessiva, sottolinea il primo cittadino. Alcune deleghe sono state messe in capo ad altri assessori, come le politiche sociali che passano da Gianmarco Medusei a Giulia Giorgi, entrambi della Lega. La comunicazione passa dall'assessore Paolo Asti al sindaco Peracchini, il quale assume anche la delega al personale di cui si occupava Gagliardi. Luca Piaggi, infine, eredita dalla neodeputata, la delega ai rapporti col Consiglio Comunale. Resta in Consiglio Comunale poi anche Lorenzo Viviani, eletto con la Lega alla Camera dei Deputati. Una notizia di cronaca perché i vigili del fuoco del comando provinciale della Spezia sono intervenuti stamani alle 10 circa in località Le Grazie per l'incendio divampato a bordo di un'imbarcazione. Il Natante, una barca a vela in legno di circa 10 metri di lunghezza, era ormeggiato al porticciolo turistico quando per causa in corso di accertamento si è sviluppato un incendio dal quadro strumenti della plancia di comando. La squadra di 5 operatori partiti dalla centrale di via Antoniana con un'autopompa è giunta sul posto in pochi minuti domando le fiamme evitando così che l'incendio si propagasse agli altri locali. Con lo scalo odierno di Costa Vittoria inizia la gestione delle aree dei servizi crociere della Spezia da parte di Costa Crociere nel 2019. È prevista un'importante crescita del gruppo Costa nello scalo Spezzino con l'arrivo anche di Costa Smeralda, la prima nave della flotta a gas naturale sia in porto che in navigazione. Laura Ivani con le immagini di Sergio Diofidi. Costa Crociere ha iniziato oggi la sua gestione del terminal crocieristico della Spezia. La compagnia si è giudicata lo scorso mese la gara ponte per 10 mesi per la gestione delle aree e dei servizi crocieristici in attesa di vedere avviata nelle prossime settimane la gara di project financing per il nuovo terminal. Si guarda diciamo al poter aver aggiudicato la gara di project diciamo entro fine anno in modo da partire l'anno prossimo con un nuovo soggetto che gestirà questa volta non per un periodo ponte ma per un periodo molto più lungo il servizio ai crocieristi e potrà fare anche investimenti nel nostro porto. E la compagnia italiana guarda con interesse allo scalo della Spezia pensando già a dopo la gara ponte. Noi ovviamente abbiamo preso questo impegno di questa gara ponte per manifestare il nostro interesse e nostro obiettivo non solo quello di gestire il termine alla breve termine ma quello di dare un messaggio all'intera città di la Spezia alle istituzioni che noi siamo qui siamo qui per prenderci un impegno e per restare. Il ricorso al TAR presentato dalla società Discover che precedentemente gestiva il servizio secondo la presidente dell'autorità portuale non interferirà sulle procedure. Nel 2018 Costa effettuerà alla Spezia 20 scali per 60.000 passeggeri diventeranno 21 nel 2019 con i passeggeri movimentati che saliranno a 80.000 grazie all'impiego di navi più grandi. In tutto il prossimo anno saranno 49 gli scali nel porto Spezzino del gruppo Costa pari a 255.000 passeggeri grazie anche a Daida Crucis compagnia tedesca del gruppo che farà 28 toccate. E per il 2019 un'altra novità è l'arrivo di Costa Smeralda 180.000 tonnellate di stazza lorda e 6.600 ospiti totali. Costa Smeralda sarà la prima nave della flotta Costa Crociere che sarà la prima nave a combustibile LNG quindi a gas il combustibile fossile più pulito al mondo e la Costa Smeralda verrà inaugurata alla fine del 2019 dopodiché entrata in servizio nel Mediterraneo occidentale verrà la Spezia ogni settimana il venerdì. Don Alessio Batti, Don Emilio Valle e Don Stefano Ricci. Tre nuovi sacerdoti sono stati consacrati ieri dal Vescovo Diocesano in una celebrazione gioiosamente partecipata nella Cattedrale di Cristo Re. Ripercorriamo i momenti salienti della nostra diretta nel servizio di Italo Lumi. Tre nuovi sacerdoti per la vigna del Signore sono stati ordinati questo pomeriggio nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia. Si tratta di Alessio Batti, 37 anni, della parrocchia di San Francesco di Lerici, Emilio Valle, 40 anni, della parrocchia di San Pietro Apostolo a Mazzetta e Stefano Ricci, 25 anni, della parrocchia di Santa Maria Assunta a Sazzana. L'ordinazione riveste una particolare importanza per la nostra diocesi in quanto è dal 2015 che non venivano ordinati nuovi sacerdoti. In questa nostra diocesi, che conta 186 parrocchie, i sacerdoti, compresi quelli molto anziani e malati, sono oggi poco più di un centinaio. Crescono dunque le esigenze pastorali in un contesto socialmente variegato che va dalla città capoluogo, ai piccoli borghi dell'entroterra, dalla riviera alle cinque terre, sino alla valle di Vara. Quindi questa ordinazione sacerdotale diventa un momento significativo e importante per la nostra diocesi. dobbiamo essere in comunione con questa Chiesa, in comunione col pastore, in comunione con la parola annunziata, in comunione con i misteri celebrati. E questo anello di comunione, sappiamo, ha dei volti, dei volti ben precisi. Principio di unità di questa Chiesa sono io. Con tutti i miei limiti, con tutti i miei difetti, con tutti i miei peccati, certo ci poteva essere qualcosa di più bello, di più gradevole, vi tenete me. Perché il Signore ha scelto me. Perché? Ah, non lo so. Perché è fantasioso. E se si vuole essere in comunione con questa Chiesa, bisogna essere in comunione col pastore, non con la persona privata, con la quale si può anche litigare, ma col pastore, perché è segno sacramentale di unità. Però è altrettanto vero che, se poi si vuole attingere dalla ricchezza della misericordia di Dio e della grazia che Lui pone in mezzo a noi, abbiamo bisogno dei pastori della Chiesa, quelli che ovviamente poi incontrate tutti i giorni, i vostri parroci, i vostri sacerdoti. E naturalmente un approfondimento di questo servizio che era di Don Paolo Cabano sarà trasmesso nella trasmissione di domani sera in onda, come ogni martedì, Essere Chiesa oggi. Sono state presentate stamani nella sala multimediale del Comune della Spezia le linee di indirizzo del piano urbano della mobilità sostenibile e del piano urbano del traffico approvati dall'Aggiunta Comunale della Spezia. Ce ne parla Selene Ricco, le immagini sono di Davide Morina. Mobilità green, incremento delle zone pedonali e ampliamento della ZTL. Sono alcune delle novità che sono state inserite nel piano urbano della mobilità sostenibile e nel piano urbano del traffico. Tra gli obiettivi la completa integrazione tra il trasporto pubblico su gomma con la mobilità pedonale e ciclabile, la risoluzione dei principali nodi stradali. Abbiamo soprannominata Spezia Green, Spezia Green magari nel 2030 o prima, tutto è legato alle infrastrutture, soprattutto per quanto riguarda i parcheggi, però già da subito diamo dei segnali dove la Spezia avrà più filobus, più auto elettriche, più biciclette, quindi ciclovie e tutto quello che rispetta l'ambiente, la qualità della vita delle persone a partire da ogni cittadino. Poi sappiamo bene che la Spezia ha tantissime auto, anzi siamo tra quelli che in proporzione agli abitanti in Italia ne ha più di tutte, quindi va tenuta in considerazione la particolarità della nostra città, ma dobbiamo prendere coscienza che dobbiamo migliorare assolutamente il rapporto ambientale. Si può fare con l'elettrico, a partire dai mezzi pubblici e anche per quelli privati. L'ultimo piano di intervento risale al 2006. Era quindi necessario riorganizzare la mobilità con interventi che puntassero a rendere il trasporto pubblico locale una gradita alternativa per gli spezzini che al momento continuano a prediligere l'auto privata. Solo con l'adozione del piano della mobilità sostenibile si può accedere ai finanziamenti ministeriali e non solo, che per la nostra città sono strategici in quanto abbiamo un parco ad esempio degli autobus vecchi, mediamente oltre 14 anni e non solo, insomma abbiamo mezzi molto molto vecchi. Quindi per accedere ai finanziamenti pubblici bisogna fare il piano della mobilità sostenibile e il piano urbano del traffico. In questo modo coinvolgendo poi tutti gli interessati noi daremo delle risposte importanti. Tra gli interventi previsti a breve termine l'ampliamento delle zone pedonali e l'estensione della modalità filoviaria sull'asse centrale della città. La linea 12 passerà da urbana a filoviaria e non passerà più, passerà diciamo davanti alla via Fontevivo, la zona delle terrazze. Il 5 coprirà quel percorso lì che non viene più fatto dal 12 e il 3 che prima andava ogni 10 minuti al felettino ora ci andrà ogni 20 e gli altri 10 arriva fino a Migliarina e poi dopo avrà Bragarina. Prosegue il dibattito sul futuro dell'area ex CEO alla Spezia. Confartigianato Commercio e Confesercenti hanno più volte manifestato le preoccupazioni degli operatori commerciali della città in merito all'eventuale apertura di una nuova struttura di grande distribuzione all'interno dell'area. Per salvaguardare il piccolo commercio e per ragioni di sicurezza dei centri urbani le tre associazioni hanno condiviso un documento presentato da tempo all'amministrazione comunale della Spezia in merito alle criticità emerse. Nonostante i ripetuti solleciti, precisano i traenti che nel frattempo stanno valutando ulteriori azioni, al momento si resta in attesa di una risposta. Il Comune di Bolano è il primo tra i 32 della provincia ad aver recepito durante l'approvazione di bilancio di previsione la proposta di emendamento presentata da CGL Cisle Will volta alla costituzione di un fondo per il sostegno dei soggetti a rischio di esclusione sociale, previsti nella fase iniziale 4.000 euro per avviare la sperimentazione dell'iniziativa. L'intervista raccolta da Selene Ricco e le immagini di Raffaele Maulella. Il Comune di Bolano ha recepito la proposta al bilancio presentata dalle sigle sindacali volta a costituire un fondo che rappresenterà davvero uno strumento concreto di sostegno alle famiglie in difficoltà. Ma di cosa si tratta? Il Comune di Bolano da sempre costruisce il proprio bilancio in maniera partecipata, in particolare attraverso un confronto stringente con le organizzazioni sindacali. Quest'anno abbiamo ricevuto la richiesta di emendamento da parte di CGL Cisle Will volta all'istituzione di un fondo sociale per combattere le morosità incolpevoli derivanti da cassa integrazione, da licenziamenti, da difficoltà delle famiglie. Qual è l'obiettivo del sindacato rispetto alla contrattazione territoriale e sociale? Il nostro primo obiettivo è quello di rendere esigibili i diritti di cittadinanza e attraverso la contrattazione territoriale e sociale traguardiamo la realizzazione di piattaforme dove indichiamo quelle che sono le priorità da adottare nei singoli territori. Abbiamo inviato a tutti i 32 comuni della provincia una piattaforma unitaria dove ci sono le nostre priorità, le nostre proposte. Il secondo obiettivo è quello di realizzare delle intese, degli accordi con i singoli comuni. Il terzo obiettivo è quello di misurare questa negoziazione territoriale e sociale attraverso la realizzazione di accordi, di verbali d'intesa e quindi attraverso degli atti amministrativi, delle delibere. L'abbiamo anticipato e la proposta è stata presentata a tutti i 32 comuni e quello di Bolano è stato proprio il primo a inserirla nel proprio bilancio di previsione. Sì, noi l'abbiamo inviata a tutti i 32 comuni della provincia. Dobbiamo dire che come sindacato dei pensionati il comune di Bolano è sempre stato con un occhio attento alle problematiche poste dalle organizzazioni sindacali e dai pensionati. Noi vorremmo che l'esempio che il comune di Bolano ha dato a noi fosse seguito da tanti comuni. Ecco, tra i punti della piattaforma i patti anti-evasione che hanno anche come obiettivo quello di diventare proprio un modello di riferimento anche a livello nazionale. Certo, è stato molto importante aver chiuso questo accordo col comune di Bolano perché tramite il patto sull'evasione, cioè recuperare risorse, per poterle poi gestire alle persone che hanno bisogno, ai giovani e alle persone che hanno bisogno, che oggi chi vive in territorio sa che c'è tanta sofferenza. È aumentato in maniera esponenziale il numero di cinghiali presenti sul territorio ligure con danni inestimabili ai territori coltivati all'ambiente e ai centri abitati dove si verificano frequenti incidenti. I danni maggiori sono quelli subiti dalle aziende agricole liguri. Le misure adottate non sono servite a fermare gli animali che distruggono attrezzature, interi raccolti e non di rado attaccano gli animali domestici e quelli delle fattorie. È una situazione critica, afferma il presidente di Col di Retti Liguria, Gerolamo Calleri, che sta diventando un pericolo sia per le imprese locali, esasperate dai continui attacchi che per l'incolumità delle persone. Abbiamo nuovamente fatto presente il grave problema alla regione, gli fa ecco il delegato confederale Bruno Rivarossa. Riteniamo sia indispensabile intervenire in maniera risolutiva prima che sia troppo tardi, non solo per risarcire ma per prevenire situazioni inaccettabili per la collettività. Giovedì 12, venerdì 13 aprile, la Spezia sarà nuovamente capitale della Polizia Locale del nostro Paese per l'atteso convegno nazionale giunto alla 23esima edizione. Giovedì 12 e venerdì 13 aprile, la Spezia sarà nuovamente la capitale della Polizia Locale del nostro Paese per l'atteso convegno nazionale giunto alla 23esima edizione e come negli ultimi anni sarà ospitato nelle sale di Spezia Expo. Sarà presentato il disegno di legge di iniziativa dei tre regioni, Veneto, Lombardia e Liguria, in materia di riforma della Polizia Locale. Poi ci saranno come al solito appuntamenti professionali, cioè aggiornamenti sul codice della strada, una riflessione seria a un anno dall'entrata in vigore del decreto Minniti sia per gli aspetti relativi ai provvedimenti in materia di sicurezza urbana sia per tutta la parte relativa alla disciplina della sicurezza degli eventi e manifestazioni. 700 le adesioni di vigili urbani provenienti dalle diverse regioni anche le più lontane. Con soddisfazione registriamo che anche quest'anno il nostro 23esimo convegno nazionale porterà più di 700 agenti ufficiali di Polizia Locale da tutta Italia nella nostra città. Ormai il numero delle adesioni si è stabilizzato su questa cifra. Abbiamo, come gli anni scorsi, stabilito delle convenzioni con strutture ricettive locali e con esercizi di ristorazione. E' anche un motivo di soddisfazione poter far conoscere la nostra città a così tante persone che arrivano dalle diverse parti d'Italia. Il convegno, aperto giovedì 12 aprile alle 9.30 dal saluto del sindaco, del prefetto e del comandante del corpo della Polizia Municipale della Spezia, ospiterà relazioni di particolare attualità. 23esima edizione del convegno dedicato alla Polizia Locale, tantissime le presenze che anche quest'anno si registreranno alla Spezia. Quali sono anche un po' gli obiettivi che vi siete prefissati anche poi di fatto a seguito di quella riorganizzazione che sta avvenendo proprio internamente per quanto riguarda il territorio spezzino? Ma sì, intanto esprimo una soddisfazione per questo convegno nazionale e spero, mi auspico che proprio da Spezia venga la spinta a livello nazionale per una nuova legge quadro per la Polizia Locale, che è una legge vetusta dell'86. Gli agenti di Polizia Locale non sono più vigili urbani, sono la sentinella della sicurezza, sono i primi che intervengono, che il cittadino sente. Quindi ci vuole a livello nazionale una spinta forte legislativa che inquadri diversamente la Polizia Locale sia da un punto di vista di selezione sia da un punto di vista operativo. Una crescita esponenziale di almeno 3.000 visitatori all'anno. Il dato sulle visite legate al castello di San Giorgio che fino all'epoca medievale domina il Golfo della Spezia. Chiara Alfonsetti con le immagini di Sergio Diofi. Ogni anno il castello San Giorgio fa il pieno di visitatori. Nel 2000, anno dell'apertura, ne contava all'incirca 3.000. Date alla mano, per il 2017 le presenze si sono decuplicate. A fare il punto è la dirigente dei servizi culturali della Spezia, Marzia Ratti, in occasione della presentazione delle attività per la manifestazione archeologica, che si terrà proprio a Castello San Giorgio il 13 e il 21 aprile. Nel 2017 abbiamo chiuso a 34.700 visitatori. Il castello, il museo archeologico, sta crescendo di 3.000 visitatori all'anno all'incirca. È un brand per il turismo da solo. Spicca su tutti i musei, che sono tutti importanti naturalmente, con grandi collezioni, perché è un biglietto da visita, credo, per la nostra città. Si vede dal mare, si vede da terra. Ormai è conosciuto, c'è un rimbalzo di voci che fa promozione positiva. Il 2018 potrebbe essere un anno di conferma, quindi per il castello che dal Medioevo domina imperturbabile il golfo. Per manifestazioni come archeologica, i visitatori sono per la maggior parte spezzini. Abbiamo tante persone che vengono da fuori, da Carrara, da Massa, piuttosto che da Chiavara, insomma dalle zone vicine. Poi possono esserci anche i turisti mescolati, quelli non li riconosciamo. Diciamo che questi approfondimenti sono più per gli italiani e per tutti quelli che vogliono saperne di più e che hanno un appello ormai consolidato. Se il castello e il suo complesso museale crescono, serve comunque una rete che leghi il passato alle nuove sfide tecnologiche. Sarebbe bello, ed è uno dei miei progetti, mettere in comunicazione le due parti della città. La parte delle istituzioni che si occupa di queste cose e la parte degli appassionati che sta crescendo. Secondo me è un lavoro ancora da fare, ma è molto cambiato in positivo. Il progetto, voluto per realizzare un rifugio per delfini, tra pochi giorni entrerà nella fase operativa con le attività di rilevazione di un sito idoneo sulle coste italiane, nell'ambito di uno studio di fattibilità per costituire un rifugio per delfini provenienti dalla cattività e dagli spiaggiamenti in acque europee. L'AV è tra gli uditori alla conferenza che si concluderà domani della European Cetacian Society, evento che una volta all'anno raduna i maggiori scienziati europei impegnati a promuovere la conoscenza, la protezione e la conservazione dei mammiferi in Europa per la prima volta in programma alla Spezia. Si è appena concluso con grande successo il corso di lingua francese indirizzato a chi opera nel settore turistico e del commercio per migliorare l'accoglienza dei vacanzieri o dei croceristi. Confcommercio, ente organizzatore dei corsi di lingua straniera, informa che sono già aperte le iscrizioni per la prossima sessione. Nuovi adempimenti in materia di privacy. Il tema sarà affrontato in occasione dello svolgimento di un seminario informativo domani nella sede della Confcommercio della Spezia in via Fontevivo 19F a partire dalle 14.30. I nuovi adempimenti coinvolgeranno a vari livelli tutte le aziende. Seconda presentazione spezzina per il libro di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello, Sebbene che siamo donne, resistenza al femminile in quarta zona operativa tra la Spezia e l'unigiana, edizioni 5 terre. L'iniziativa organizzata da Coop Liguria in collaborazione con l'associazione culturale mediterraneo si svolgerà mercoledì 11 aprile alle 15.30 nella sala punto d'incontro Coop San Bartolomeo in via Saffi. Dal Puccini al Tibe. Il sestetto formato da studenti del terzo anno del corso di jazz del Conservatorio Puccini della Spezia, coordinato da Alessandro Fabri, presenterà un programma di standard arrangiati appositamente per la formazione. La serata sarà aperta dall'esibizione di un gruppo di docenti del Conservatorio. Una giornata soleggiata ha coronato il successo del progetto del Lions Club Vara Sud, sviluppato insieme al Comune di Ricco del Golf e all'Associazione Mangia Trekking, a favore di Lorenzo e della Fondazione Areal Onlus, che si occupa di disabilità. Una piacevole camminata sui sentieri attraverso importanti borghi storici della Val di Vara, con i racconti documentali del dottor Torricelli, della dottoressa Moretti e una degustazione di prodotti tipici organizzati dall'azienda Zero-Meno. Luminosa solidarietà dimostra che cultura e ambiente sono una formula possibile di successo nelle sfide di civiltà. L'Associazione Culturale Liguria-Russia della Spezia esprime soddisfazione per la grande partecipazione circa un centinaio di fedeli della comunità ortodossa della Spezia dalla celebrazione della Pasqua svoltasi ieri nella chiesa di San Domenico Savio al Canaletto. Il presidente Sinisi ha ringraziato la parrocchia per la disponibilità essenziale alla buona riuscita della festa. Questa sera alle 21.30 nuovo appuntamento con la trasmissione Quattro passi tra i borghi alla scoperta della lunigiana storica a cura di Maria Cristina Sabatini e Davide Morina, puntata dedicata a Castiglione del Terziere e al suo castello. Il nuovo codice della nautica ha istituito la giornata nazionale del mare e della cultura marina l'11 aprile di ogni anno. La Spezia ha preparato la sua prima edizione per questo mercoledì con tantissimi appuntamenti dedicati al mare, tra questi anche la presenza di Giovanni Soldini. Prima giornata nazionale del mare e della cultura marina, cosa significa? Con la riforma al codice della nautica da di porto è stata riconosciuta dalla Repubblica nell'11 aprile la giornata della cultura del mare. Mare inteso come risorsa da preservare ma anche come risorsa turistica ed economica. Nell'ambito del progetto sviluppato alla Spezia, la capineria di Porto Guardia Costiera non poteva non fare la sua parte e quindi l'11 aprile si è resa partecipe di un'iniziativa insieme a Lega Navale Italiana e a CNA rivolta ai giovani studenti. CNA la Spezia tra gli enti promotori, che importanza ha questa giornata per la CNA? Beh, per la CNA tutta ed in particolare per gli operatori della nautica è un'importanza fondamentale perché significa voler diffondere la conoscenza e la cultura del mare e voler così far comprendere meglio quello che è il valore in senso economico, culturale, ricreativo e sociale del nostro mare. Siamo ovviamente molto contenti, è come aver aggiunto nel calendario un nostro compleanno, ecco, perché in questo modo abbiamo la possibilità di formare delle nuove generazioni attente e consapevoli della risorsa mare. C'è un testimonio di eccezione? Sì, abbiamo pensato ad una testimonianza di Giovanni Soldini che per noi vuol dire coniugare quella che è la tradizione, le tradizioni marinare con quella che può essere la tecnologia legata alle sue ultime imprese. La Lega Navale della Spezia promuove questa festa e organizza anche un sacco di eventi. Sì, abbiamo accolto con un gran favore la proposta fatta da Guardia Costiera, dal Comandante Seno e dalla nostra amica Federica Maggiani e questa è una manifestazione che rientra in pieno nei compiti della Lega Navale. Abbiamo il patrocinio del Comune, l'approvazione di Comando Nord Marina Nord, il Museo Navale, il CSSN della Spezia che sarebbe poi Mari Perman, WWF, la Lega Navale, vabbè che siamo noi, la vera tradizionale che sarebbe Pandora, la magnifica goletta che lavora molto anche per i ragazzi, i percorsi nel blu, il distretto rigolo della tecnologia marine, asso nautica, CNA che lo sappiamo, il circolo velico che farà delle prove col simulatore di vela, la canottiera di veloce, anche lei con un simulatore, poi il live of the sea, on loose, bilzio navigante, il cantiere della memoria e anche l'istituto Nodario Sauro, faremo tutte queste cose sulla passeggiata a Morim, vicino alla capezzaneria di Porto. Sport Basket nell'undicesima giornata di ritorno del campionato di A2 femminile, girone sud, altra preziosa vittoria delle ragazze della Carispezia, cestistica spezzina per 73-59 sulle Cagliaritane della Surgical Virtus in un match generoso e grintoso delle Bianconere che nell'ultimo quarto staccano le avversarie dopo un andamento equilibrato sul piano del punteggio, grazie ai punti messi a segno nei minuti finali alla rocciosa prestazione difensiva che ha respinto la reazione delle padrone di casa. Prossimo turno con le ragazze di Mister Corsolini nuovamente in trasferta contro la Molisana Campobasso, appuntamento sabato 14 aprile alle 18.30 al palazzetto Vazieri di Campobasso. La Serie C Silver maschile regala altre due vittorie nel corso della seconda giornata di ritorno dei play-off con le affermazioni di Tarros e Sarzana che superano rispettivamente Ospedaletti e Chiavari. Tarros batte i genovesi 73-71, Sarzana 79-71 in casa contro i chiavaresi. Tarros consolida il primato nella miniclassifica a 10 punti garantendosi il passaggio alla fase successiva come Cus Genova nell'altro girone. Nella terza e conclusiva giornata di ritorno che si giocherà domenica prossima, Sarzana affronterà Ospedaletti sempre tra le mura amiche mentre lo Spezia Club Tarros ospiterà l'Aurora Chiavari. Per quanto riguarda il calcio, gli approfondimenti in onda tra poco dopo la nostra edizione del TLS giornale con Proviamoci al lunedì nel quale si parlerà, oltre al pareggio dello Spezia con la capolista Empoli, anche di una Marcord con un servizio dedicato alla stagione 85-86 storica della promozione Aquilotta. Veniamo ora alle previsioni del tempo per il 10 aprile. Continua ad essere una settimana tormentata dal punto di vista meteorologico. In mattinata il passaggio di una nuova perturbazione in quota determinerà precipitazioni diffuse di debole o moderata intensità localmente significative con possibili fenomeni temporaleschi al più moderati. Attenuazione nel corso del pomeriggio con possibili locali temporanei schiarite ma nuove precipitazioni insorgeranno a partire dalla tarda serata. Umidità su valori medio-alti, venti moderati da sud-est a levante in attenuazione e rotazione da est e nord-est. Mare da molto mosso in calo fino a mosso e temperature comprese tra 11 e 14 gradi. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni del TLS giornale, arrivederci. Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video